Vele nel Golfo di Napoli, durante l'ultima giornata delle gare organizzate dal gruppo partenopeo del Reale Yacht Club italiano. Tra il vivo interesse del numeroso pubblico di appassionati che lungo via Caracciolo e dai posti più favorevoli della collina di Posillivo e del litorale ha assistito alle abili virate di boe delle barche concorrenti con combattività e particolare perizia nautica, Bona ha riconfermato nella categoria degli 8 metri le precedenti vittoriose prove assicurandosi la prima posizione, mentre Grazia II si classificava nei 6 metri e Valilla trionfava nella categoria a stelle. Grazie! 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 Grazie!